Tutto esaurito sabato 29 ottobre al Teatro dell'Aquila di Fermo per la prima dell'opera tedesca Il flauto magico di Mozart, primo titolo della stagione d'opera 2016. Presentata lunedì in conferenza stampa insieme ai ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti di Urbino che hanno lavorato all'allestimento, l'opera, eseguita in lingua originale, è diretta dal regista Francesco Calcagnini. Una storia di un giovane adolescente che viene svegliato nel cuore della notte da un serpente, poi incontra regine della notte, poi incontra leoni, uccellatori, giovani fanciulle. Credo che sia la possibilità non di attualizzare Mozart ma la possibilità per tutti noi di fare un giro a braccetto di Mozart che è un genio. Siamo imparentati con tutto ciò che esiste, ha aggiunto Calcagnini durante la presentazione, e il teatro è una macchina senza tempo che ci permette di comprenderlo. Il teatro è un luogo dove si pongono delle domande, non è un luogo di risposta, è un luogo dove si pongono delle domande e a volte quando noi ci poniamo una domanda ci sentiamo da soli, invece, e quindi il teatro è la possibilità di non sentirsi da soli nel momento in cui una domanda anche tragica ci arriva addosso. L'opera in due atti, coprodotta con la rete lirica delle Marche, è musicata dalla Form, orchestra filarmonica marchigiana sotto la direzione del maestro Gaetano Espinosa, che ha sottolineato quanto questa rappresentazione si avvicina all'utopia mozartiana della Menschlichkeit. È una produzione molto bella perché la compagnia è molto giovane, molto affiatata, c'è questo senso di coesione che io trovo si avvicina molto all'utopia mozartiana, quindi appunto al senso di Menschlichkeit. Un grande successo per il teatro dell'Aquila e per il comune di Fermo, come spiega il vice sindaco Francesco Trasatti, che ricorda inoltre l'anteprima riservata agli studenti delle scuole superiori del prossimo 27 ottobre. Devo dire che il riscontro dei Fermani, ma non solo dei Fermani, al Botteghino è stato importante, abbiamo già tutto esaurito sia per l'anteprima scuole giovedì che per la serata di debutto della stagione d'opera dell'intero cartellone teatrale. Segno della volontà dei Fermani di esserci, credo anche del riscontro della stagione, dei titoli proposti e questo ci fa innegabilmente piacere perché è attraverso un ciclo virtuoso di cultura, di economia, di presenza, di stare insieme nel segno della bellezza che poi una comunità cresce e si eleva.